Ciao ragazzi, lo studio non è ancora pronto, ma io scalpito e quindi due cose ve le dico. Ha vinto trampone, per fortuna, ha perso la rettile colorata bevisangue, ok? Ma metti che ci sia davvero un rischio di terza guerra mondiale, metti che, come sostengo io, in realtà non abbia vinto trampone, ma ha vinto mascone. Le persone ricche non hanno problemi, realmente, contro le malattie, anche quelle gravi, perché sappiamo che trovano il modo di curarsi, ma la classe media, i poveri, immaginate quello che mascone è in grado di proporgli con le sue cure, con Neuralink, eccetera. Metti caso, questa è veramente fantascienza, che trampone faccia la fine di Kennedy. Mettiamo anche che non faccia la fine di Kennedy, ma che sia soltanto una transizione. Chi è che veramente il popolo americano ama? Trump o questo Musk che le sta dicendo tutte? Tutte per divenire simpatico e poi comprarsi un pezzetto del vostro cervello? Questa è un'anteprima del ritorno della botteguccia Cracker Park, che sta arrivando. Un bacio intanto e io vado a montare roba, perché è un disastro.